Buongiorno, vi vorrei parlare del Wine Hunter, del Wine Hunter Award. Wine Hunter nasce nel 1992 con l'organizzazione del primo Merano Wine Festival e poi viene ufficializzato dal 2005. In pratica è un brand che vuole mettere in evidenza, mettere in luce, promuovere l'eccellenza, la qualità, soprattutto la qualità superiore. L'obiettivo è quello di ricercare ogni anno prodotti sul territorio che sono tutti da scoprire, che rappresentano i propri territori con le varie peculiarità e all'interno di questo vengono organizzate, sviluppate e tenute vere e proprie degustazioni per poi individuare quali sono i prodotti che rispondono al meglio alla identità di Wine Hunter che vuole rappresentare l'eccellenza. Nella prossima puntata vi parlerò un po' sull'assegnazione di questi Wine Hunter Award che sono il rosso, il gold e il platinum.